Meravigliosa. Lara! Cavolo! Questo posto è enorme. Direi che la ricerca è stata utile. Sappiamo cosa vuole la Trinità. Già, volevano tenerci fuori a tutti i costi. Ringraziamo le note di tuo padre. Ti ho vista mentre il passaggio ti crollava addosso. Non vuoi che ti guardi la ferita? No, sto bene. E questo cos'è? Costellazioni. Questa iscrizione è una specie di enigma. Pesci rosa? Pesci rosa? Una montagna incoronata d'argento. C'è una data qui. Ma qualcosa non quadra. È stata danneggiata, forse intenzionalmente. Perché la Trinità l'avrebbe sabotata? Di solito distruggono tutto. No, i danni sono precedenti. Ma chi potrebbe averlo alterato? Lara! Dobbiamo uscire di qui! Lara! No! È per un secondo! Andiamo! Forza! 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 Presto! Avanti! Se non mi avessi portata via, sarei ancora lì a fare foto. Saresti ancora lì non a fare foto, però. Smentila! Ehi, puoi riposarti un po'? Magari ci vediamo al caffè. Il Dottor Dominguez dovrebbe arrivare oggi. Buona idea. Cercherò di risolvere l'enigma. Vediamo se la data c'entra qualcosa. Giusto. Pesci rosa, montagne incoronate d'argento. Comunque, questo caffè pare che si mangi molto bene. Conosco il cuoco. Non ho molta fame. Dopo tutto questo casino, io sto morendo. Mangerei una valena.